ciao benvenuto alla consueto analisi settimanale dei mercati finanziari sono michele clementi e gli argomenti del video sono i seguenti new finance la maledizione dell'it forum è una piccola statistica che viene fatta tutti gli anni che ne parlo utili trimestrali ormai siamo giunti al 90 per cento dei dati per cui tiriamo le somme cosa ci dicono le statistiche dei mercati ce ne da dire sono anche interessanti dati macroeconomici in particolare l'inflazione ma anche altri aspetti anche questi sempre importanti analisi grafica dei principali indici buon ascolto bene ho parlato della maledizione dell'it forum è una battuta perché l'it forum era un convegno che si teniva a rimini sin dalla fine degli anni 90 sin all'anno scorso che puntualmente quando veniva fatto a maggio i due giorni in cui veniva appunto fatto l'evento erano molto negativi sulle borse allora così scherzando si parlava della maledizione dell'iti forum quest'anno l'iti forum è stato sostituito da you finance che comunque alla sesta edizione e io ho partecipato come ho detto più volte mi ha fatto un enorme piacere incontrare alcuni di voi non faccio i nomi perché non me li ricordo tutti quindi non vorrei per par condicio fare delle differenze comunque mi ha fatto un enorme piacere grazie dei complimenti chi è venuto poi a vedere l'intervento che abbiamo fatto sulla consulenza indipendente quindi ecco ho voluto approfittare con questa battuta della maledizione dell'iti forum per ringraziare veramente per chi è venuto e si è presentato così abbiamo un volto siete impressi nella mia memoria per cui mi ha fatto veramente molto piacere detto questo inizierei con i mercati finanziari partiamo da questa immagine che è importante perché ormai il 90 per cento dei titoli negli stati uniti ha diramato le proprie diciamo i propri dati societari le crescite sono state fra l'8 e il 10 per cento rispetto al trimestre precedente per cui molto bene molto bene e quello che si vede qui sono come qualcuno si chiede perché le borse salgono beh come si vede effettivamente gli utili stanno crescendo dai minimi dello scorso anno quindi sono diversi mesi diversi trimestri che si migliorano e come si può vedere non c'è una statistica riguardo se non se non questa che non non dice moltissimo ma in termini di trend come si vede potremmo veramente essere all'inizio di un trend che potrebbe durare anche dei mesi se speriamo degli anni poi tutto può succedere comunque c'è un cambiamento di paradigma se vogliamo dall'anno scorso agli ultimi agli ultimi trimestri come sempre sempre miglioramento per cui questo è sicuramente un dato molto molto importante ma andiamo a vederlo nello specifico e anche questo è interessante cioè ormai il 90 per cento delle aziende come ho detto hanno già diramato le troppie trimestrali hanno battuto le stime oltre il 70 per cento dei comunicati e come si vede quando siamo sopra al 70 per cento non ci sono mai state recessioni per cui c'è un miglioramento e questo è sicuramente una cosa interessante sempre dal sito di gli ardeni.com con la y gli ardeni con la y quello che si vede poi c'è scritto qui perché vedo poco ma in ogni caso si effettivamente poi dopo approfondiamo anche questo queste sono le large cap quindi abbiamo un price earning intorno a 20 quindi non sicuramente a sconto mentre le small e le mid cap hanno sicuramente valutazioni più interessanti ma questo è abbastanza normale perché in un ciclo di rialti dei tassi sono quelle diciamo più penalizzate da questa da questo ciclo per cui sono sono scese e hanno fatto diciamo più fatica a riprendersi perché comunque come ben sappiamo i tassi non sono poi stati tagliati per cui sono generalmente le aziende un po' più indebitate quindi incide di più e vengono essere penalizzate però questa è un po' la situazione ho detto sono non sono a non sono a sconto sicuramente non sono a sconto ma vediamo se questo ci deve preoccupare lo standard in pur dall'inizio dell'anno è andato sicuramente bene qui si vede queste sono tutte le previsioni degli analisti l'unico che per adesso è ancora imbattuto nella sua previsione e gli ardeni e tutti gli altri analisti sono stati diciamo battuti e cosa può essere anche questo come può essere letto se io ero tra virgolette negativo se l'indice o invece va sopra alle mie previsioni io devo comprare perché sennò sono sottopesato e questa è una chiave di lettura un'altra chiave di lettura come ti ho fatto vedere tante volte guardare le previsioni degli analisti la cosa più intelligente da fare è fare il contrario cioè posizionarsi dove nessuno si è posizionato quindi diciamo in questa logica ci si potrebbe aspettare un indice che faccia più di 5.400 o meno di 4.200 questa è la più probabilità quindi che poi effettivamente andiamo nelle code della distribuzione quindi ritorno alla domanda il mercato è caro il 16 di maggio il Dow Jones ha toccato 40.000 punti il record storico e qui è bella interessante vedere tutte le volte che sono state battuti diciamo quelli che io chiamo i numeri tondi si parte dai mille punti del 1972 fino arrivare ai 40.000 punti del 16 maggio del 2024 anche lo standard pure ha fatto dei nuovi dei nuovi massimi e in questo caso quindi ritocchiamo la tabella e andiamo a 23 ricordo per chi non mi ha seguito nelle puntate precedenti che il nostro diciamo record da raggiungere il 1995 con 77 diciamo massimi continuativi questo invece nel 2021 fu uno 70 adesso la domanda è conviene investire nei massimi in questo caso ti fa vedere come è una statistica che io non ho mai fatto quindi la prendo come buona ma non mettiamoci la mano sul fuoco perché io non è farina del mio sacco però che questo ti fa vedere che investire il giorno dei massimi può investire un qualsiasi altro giorno è normale che in questo caso siamo in una media quindi questo mi fa presagire che c'è un appiattimento per cui va bene però ok la prendiamo la prendiamo e vediamo come a investire però sui massimi è un po l'idea che forza chiama forza ormai questo mio mantra e come si vede non spaventiamoci se il mercato ha fatto dei massimi perché generalmente chi compra sul giorno dei massimi come si vede poi nel lungo periodo fa meglio della media ok della media perché questo immagino che sia stato fatto rolling cioè investire in un qualsiasi altro giorno è una media di tutti gli altri giorni per cui non è proprio proprio corretto come come confronto un po mele con pere però lo uso per non spaventare per chi oggi dovesse comprare per cui comprare il giorno dei massimi non è assolutamente come si può vedere un momento di sventura ecco forza chiama forza in particolare a volte quando ci sono molti giorni consecutivi a rialzo siamo tutti qui ad aspettarci un ribasso è normale quindi sa è salita troppo adesso deve stornare è quello che ci si aspetta sempre quando sale troppo ecco questo ci fa vedere come il dow jones abbiamo visto che ha fatto nuovi massimi ha avuto 8 giornate consecutive rialziste poi ci sono stati momenti in cui è fatto addirittura anche meglio di 8 ha continuato a migliorarsi però ecco questo anche questo secondo me è interessante vedere come anche in questo senso possiamo dire che forza chiama forza per quanto riguarda in questo caso 8 giorni quindi più o meno è la stessa cosa del dow jones che ti faccio vedere è che raggiunge un record quindi un po qui restringe la casistica quindi ha fatto otto giorni consecutivi e raggiunge un record qui fa vedere che è una questione diciamo piuttosto rara perché ce ne sono stati solamente tre storicamente a partire dal 1995 e questi sono i dati ecco sicuramente quello del 2008 non è incoraggiante mentre quegli altri si adesso la domanda è possiamo essere alla vigilia di un 2008 io questo non lo so ma diciamo che voglio essere positivo e quindi vedo i due terzi della statistica anche se poi sappiamo bene che tre solidati non è un campione statistico su cui fare affidamento però ecco ho voluto far vedere l'eccezionalità del momento questo modello basato sull'impassione di jay kepler che è un analista di sentiment trader non ho capito come funziona cercato su internet e alla fine poi se mai lo scoprirò perché gli ho scritto ho scritto su linkedin gli ho scritto direttamente e ho chiesto come come funziona ovviamente non mi dirà mai le percentuali i pesi di quello che combina questo indicatore però un indicatore un modello sull'inflazione perché mi ha incuriosito perché questa sarebbe liquidy line cioè se mille come si vede no un dollaro la crescita di un dollaro in tanti anni ovviamente messo e messi e gestiti in questa maniera cioè tutte le volte che questo modello è uguale o superiore a otto bisogna essere investiti in questo caso sta dando segnali di stare investiti la cosa che mi piace questa sarebbe un equity line in qualche maniera cioè il risultato di questo questo modello e quindi di seguire questo questo metodo come si vede non ha delle grandi perdite per cui anche se poi come si vede da qui a qui anche è anche vero che non furono anni interessanti quindi gli anni 70 quindi per inflattivi però come si vede qui sta molto sta molto io non ho capito se una valutazione da quello che ho letto così cioè se il price earning meno l'inflazione questa è una chiave di lettura ma mi sembra un po troppo semplice per sentiment trader per cui non lo so però come si vede prendiamo per buono che la fonte autorevole quindi sentiment trader è allo stesso tempo che è un modello che ci sta dicendo che c'è un segnale di buy e questo potrebbe anche bastare ovviamente il dato sull'inflazione ha richiamato i tassi di interesse ho trovato questo che è sempre McLellan in questo senso è bello adesso lo allargo e dal 1900 no in questo caso Moody's dal 1919 al presente prima invece non so su che base l'ha fatto però che cos'è è praticamente i rendimenti delle obbligazioni nel periodo è bello l'ho fatto vedere ma perché uso questo per dirti che Powell ha avuto un incontro ad Amsterdam mi sembra giornate di giovedì adesso non mi ricordo effettivamente il giorno però insomma ha fatto capire che questa urgenza di tagliare i tassi non c'è che anche un dato dell'inflazione è unico per adesso dopo tre consecutivi rialzo non non è sufficiente per dire che la inflazione è stata sconfitta per cui se a giugno ci sarà probabilmente molto probabilmente un taglio dei tassi da parte ABC e oggi il mercato inizia a scontare solamente due tagli dei tassi per la fine dell'anno per quanto riguarda la Fed e parlando di taglio dei tassi ti faccio vedere questo che secondo me è eloquente l'Argentina ha tagliato del 10% i tassi interesse portandoli alla piccola cifra del 40% quindi i tassi interessi in Argentina sono del 40% e diciamo che l'inflazione in questo caso è del 289% ecco qualcuno potrebbe dire ma come c'è inflazione ai mercati ecco ti faccio vedere il grafico dell'Argentina e riprendo un po' quello che aveva detto Jay Kapp in quel modello quindi come descrizione del modello che diceva l'inflazione non è buono per i consumatori ma è buono per l'azionario ecco l'Argentina ci dà questa idea qui cioè non è buono per il consumatore un'inflazione al 240% ma è buono per l'azionario questo perché perché ovviamente io vado a comprare azioni non tengo di sicuro i soldi sul conto corrente è una chiave di lettura un po' semplicistica però ecco la correlazione diciamo fra inflazione e mercati azionari sembra essere molto positiva almeno in Argentina bene vediamo i dati macro ma non c'è stato granché perché si passa subito a martedì dove l'inflazione in Europa e in Germania ma sta stabile comunque siamo molto vicini sappiamo che la Germania ha avuto un rallentamento economico per cui siamo andati al 2,2 rimane un po' più forte come vedremo sui dati dei paesi diciamo del sud come l'Italia e la Spagna che hanno avuto una crescita un po' maggiore rispetto ai paesi del nord e comunque un più due come si vede ecco la Spagna che ha sempre avuto un'inflazione migliore nel periodo precedente invece adesso è diciamo è stabile addirittura un po' rialzo ma sappiamo che la crescita economica richiama inflazione per cui la Germania rallentava e quella saliva e l'inflazione scendeva in Spagna come in Italia c'è non parliamo di crescite spaziali la Spagna meglio dell'Italia comunque va bene per quanto riguarda lo ZEV è un dato che sta migliorando in questo senso come si vede lo ZEV è chiesto a 350 investitori istituzionali e analisti tedeschi quello che si nota come si può vedere che dai minimi adesso mi sembra che fosse luglio 2023 c'è stato un costante miglioramento per cui non siamo ancora dei livelli stratosferici come fu nel 2021 però ecco qualcuno si può chiedere come mai i mercati salgono i mercati salgono anche per le aspettative in questo caso sia gli analisti che poi anche l'IFO sono tutti indicatori diciamo di aspettative future e se hai le aspettative future positive i mercati generalmente salgono questa è un po' la spiegazione molto banale e limitante se vogliamo però è importante poi altri grandi dati non ci sono stati come si vede l'inflazione è anche quella francese siamo ormai vicini a quello che è il 2% questo è molto importante il PIL anche in questo caso sta ritornando a essere un PIL in crescita quindi il primo trimestre è di 1.03 e questo è anche il secondo perché il tempo vola il secondo trimestre siamo allo 0.03 e questo è interessante comunque niente di nuovo siamo a quello che invece è l'inflazione in America che dopo tre mesi consecutivi in rialzo ha un mese a ribasso come ti ho detto anche Powell non è che si strappa i capelli rimane alla finestra a riguardo però ti voglio far vedere una cosa una cosa che in pochi fanno vedere che a me è piaciuto sempre di Bilello è quello che fa vedere come per iniziative del governo negli ultimi due anni le assicurazioni il prezzo delle assicurazioni sono crollate adesso stanno un po' riaumentando però sono a livelli inferiori a quelli di 5 anni fa del 2019 sappiamo quanto gli americani spendono devono spendere in assicurazioni io ho fatto studiare mio figlio in America il quarto anno diciamo che mi sono disossato perché mi hanno veramente spaventato perché mi hanno detto se si rompe un braccio come minimo deve spendere 20.000 euro per cui via assicurazioni su assicurazioni mi è andata anche bene perché poi fu nel periodo del covid per cui ritornò in prima classe da solo in un aereo era prevista la pandemia cosa che un'assicurazione svedese aveva fatto apposta avevo speso anche parecchio oltre la sua personale che aveva in Italia oltre quella che gli avevano fatto fare per la EF era andato via con la EF e io ne avevo fatto una addirittura mia mi ero informato in svedese e contemplava la pandemia quindi era minorenne per cui è rientrato alla grande penso che un viaggio così non lo farà mai quindi albergo 5 stelle, volo da solo per cui con tre hostess erano in quattro mi sembra sull'aereo mi ricordo che mi fece il video va bene quindi anche questa è una cosa che è da far vedere quindi sì è vero però è anche vero che hanno più soldi nelle tasche per quanto riguarda risparmiano di meno sì questo è un altro dato ma va bene questo penso che lo devo far vedere quindi dopo l'inflazione al 3,4 in linea poi con le attese degli Stati Uniti passerei all'analisi grafica come sempre partiamo dal Bund che sono questo un grafico settimanale sono diciamo tre settimane che sta cercando di riprendere questi livelli il taglio dei tassi io penso che sia abbastanza scontato per giugno è normale che se la Fed ne dovesse fare due, uno o anche niente probabilmente come ha detto già la signora Lagarde è probabile che anche ci si fermi lì e quindi non potendo fare di più però stiamo a vedere comunque i rendimenti sono interessanti Italia, Europa e Germania l'Italia nuovi massimi la prossima settimana ci saranno degli stacchi importanti delle cedole quindi il nostro indice sarà un po' diciamo penalizzato da questo perché vedremo una giornata negativa e quindi ci vorrà un po' di tempo magari la prossima settimana andrò ad analizzare il futures piuttosto che l'indice perché sarà più pulito e questo non è diciamo il futures non è influenzato dallo stacco dei dividendi eccolo che si vede l'Italia è ben impostata è normale che come si vede poi nell'Eurostox che ha fatto questa candela di incertezza anche qui nuovi massimi di periodo è una incertezza che potrebbe anche prendere in considerazione qualche presa di beneficio però questo lo diciamo sempre e poi non avviene mai come abbiamo detto Nasdaq in America il nuovo massimo questo è un grafico settimanale e quindi diciamo che quello spavento di tre settimane è stato subito diciamo riassorbito vediamo se ci potrebbe essere diciamo qualcosa nelle prossime settimane ma questo è solamente non dico un auspicio però come niente il mercato è ritornato diciamo su dei livelli non vorrei dire tirati però non so neanche io cosa aspettarmi non ci sono non è facile anche da interpretare perché a differenza per esempio della Cina che si muove su delle resistenze l'avevamo visto l'altra settimana come questa resistenza fosse molto importante è difficile e ardua da superare e così è stato chiaramente quando in un grafico ci sono questi livelli è più facile perché come si sa poi quando si rompe una resistenza si tenta di andare alla resistenza successiva o se si rompe il supporto si va al supporto successivo quando invece siamo in una situazione come gli indici attuali che sono su dei massimi storici è sempre più fatica dare degli obiettivi il dollaro un po' ha risentito ci sono state varie indicazioni su questo ma comunque il dollaro si è un po' indebolito nonostante tutto va bene sappiamo che noi siamo sempre lunghi di dollaro perché compriamo lo Standard & Poor compriamo il Nasdaq compriamo i titoli americani quindi in qualche maniera siamo sempre i nostri portafogli è sempre lungo di dollaro le materie prime sono espresse in dollaro quindi generalmente quando ci sono queste giornate o queste settimane questi trend che non sono favorevoli al dollaro in qualche maniera i nostri portafogli ne risentono ecco che allora magari a volte avere anche un portafoglio equilibrato fra l'esposizione al dollaro e la copertura del dollaro può avere un senso però bisogna valutarlo di portafoglio in portafoglio vado sempre veloce c'è l'oro questo lo voglio far vedere l'oro è ritornato sui massimi c'è questa forte resistenza che fa un po' fatica di ritornare sui massimi un po' il discorso precedente dei massimi mentre invece questo è il natural gas che è in un trend in un trend lo teniamo presente natural gas è in un trend anche qui ci sono delle fasi di contango e altre cose aspetti nel grafico del gas però ecco il gas è in un trend mentre il petrolio invece diciamo che è stabile l'ultimo che ti voglio far vedere in realtà era questo che ti volevo far vedere se l'oro non ha rotto i massimi poi mi si è aperto quello del gas ma se l'oro non ha aperto i massimi non ha superato i massimi vediamo come l'argento questo è il silver l'argento sia invece si sia migliorato ma non è ancora sui massimi storage assoluti mentre l'oro è sui massimi storage assoluti si vede come l'argento faccia un po' fatica sappiamo che l'argento è più una materia prima industriale non riesco a farti vedere il rame ma il rame sta veramente andando molto forte il rame è un anzi lo faccio vedere il rame sta volando il rame sta volando è una materia prima che è molto utilizzata su tutto quello che sono macchine elettriche impianti fotovoltaici cioè tutto quello che è tra virgolette green e qui si vede come sta tirando e poi anche è una materia prima industriale non di poco conto che generalmente quando tira il rame vuol dire che l'economia è forte poi ci possono essere speculazioni come si vede in Aria 5.000 fa un po' fatica questo è un segnale abbastanza adesso te lo sto facendo vedere storico come si vede anche nel 2020 2021 2022 come in qualche maniera è correlato all'andamento dell'economia e comunque anche degli indici ecco quello che si sta vedendo sul rame c'è un tentativo forse di inversione anche questo è inflazione in qualche maniera perché poi qualcuno lo deve scaricare questo rialzo che c'è stato del 25 perché più o meno siamo in Aria 5.000 eravamo sino nella fase diciamo precedente in Aria 3.700 quindi anche più del 25 abbondantemente più del 25 c'è una bella distanza da media mobile e questa in qualche maniera può impattare sull'inflazione in conclusione non so neanche io che cosa dire se non che sono rimango positivo per il medio periodo quindi non posso chiedere o dire come devono crescere gli indici certo quando salgono troppo velocemente un po' di paura ci ha perché poi altrettanto velocemente scendono in ogni caso così è così è stato e così sarà per cui prendiamo quello che viene stiamo stiamo pronti a qualsiasi evenenza insomma grazie attenzione come sempre se il video ti è piaciuto lascio un like per ogni commento o comunque un confronto mi fa solo che piacere e buona domenica ciao ciao Grazie a tutti.